Il TranspoTech torna a Verona dopo la trasferta milanese e prova a rilanciarsi tra i principali saloni europei dell'autotrasporto e della logistica. Dal 16 al 19 aprile dunque la fiera della città scaligera ospita tutti i protagonisti della filiera del trasporto. Un totale di 260 espositori in rappresentanza delle maggiori case costruttrici di veicoli pesanti e commerciali leggeri, dei produttori di rimorchi e allestimenti, delle imprese di ricambi e servizi di logistica. Se a questi aggiungiamo aree esterne per le prove sul campo e la presenza dei principali media specializzati ci sono tutte le premesse per candidare il salone italiano a un momento di incontro attivo per tutti gli operatori del settore. Vi ricordiamo che l'ingresso tutti i giorni è dalle 9.30 alle 18. Il costo del biglietto di 12 euro ma con il pre-accredito sul sito TranspoTech.com si può ottenere uno sconto del 50%. Grazie a tutti i giorni.